ma quanto ne siete quei tutto il cammo cacchieto e moffo da mannaggia? io a Mr.Fighter mi sono buttato a te ma mi va uccisa lui ma come è morto Luigi? ma diucuta restato ma che è morto e ma c'è qualcosa che non va che è successo? stiamo all'altra parte a te stiamo all'altra parte a te stiamo all'altra parte a me per cui si sta facendo la scena no veramente GG stavo puntando proprio te perché ho detto che le stanno stanno muoci casse la struttura io ci chiedi in front ma mi salvò la grip Che p***o Non c'è quel porto lì Noo puttana Guardo ma visto troppo veloce mi chiesa in quel faccio in berlai ground Non c'era più niente sotto